Maria Rosa, che cosa ci dici sulla stagione concertistica 2024? La stagione concertistica 2024, l'era della Magna Grecia, inizierà con un'anteprima che si terrà il 22 settembre alle ore 18 presso l'auditorium Sandro Pertini di Crotone con il quintetto di Fiati di Santa Cecilia. Un bell'inizio. Sì, quest'anno devo dire la verità che la programmazione è veramente bella, variegata, avremo come al solito grandi premi, avremo il primo premio del Paganini con il maestro Ghibboni, avremo il maestro Campanella, avremo i percussionisti della Scala e mi fermo qua perché a breve uscirà proprio il cartellone, quindi vogliamo lasciare un po' di suspense. C'è anche tanta attesa da parte degli appassionati della musica e non solo? Sì, sì, devo dire che siamo veramente felici perché i nostri abbonati continuamente ci stanno contattando attraverso i social o telefonicamente perché vorrebbero sapere quando iniziamo, quindi a breve proprio con quest'anteprima daremo proprio un assaggio di quello che poi sarà. L'anteprima si terrà prossimamente? Sì, sì, si terrà come dicevo prima presso l'istituto Sandro Pertini di Crotone il 22 settembre alle ore 18, vi aspettiamo.